C'è anche l'Abruzzo insieme alle Marche, la Sicilia e la Campania tra le regioni che rischiano il ritorno in zona gialla a causa della rapida diffusione della variante Delta. Il cambio di colore avviene quando l'incidenza dei contagi supera la soglia dei 50 ogni 100.000 abitanti. La nostra regione è ancora ben sotto, questa soglia a 16.6. Sicuramente la stagione estiva e i vaccini sono un ottimo alleato per l'uomo e i dati dei ricoveri e dei decessi ne sono la conferma. Ma ora non si può abbassare la guardia ulteriormente. Secondo gli studi, nel giro di due o tre settimane, le quattro regioni citate potrebbero tornare in zona gialla per poi, a ridosso dell'autunno, passare in zona arancione o addirittura rossa. In zona gialla non ci sarà comunque il coprifuoco, che è stato eliminato, e non ci saranno mascherine all'aperto, visto che l'obbligo è stato tolto. In Abruzzo dunque cresce la variante Delta, oltre 100 i casi sequenziati la scorsa settimana. Per questo gli esperti puntano, ora più che mai, a portare avanti la campagna vaccinale per raggiungere il prima possibile l'immunità di gregge, così da bloccare l'insorgere anche di nuove varianti. Purtroppo però nella nostra regione le dosi sembrano non bastare per raggiungere nel breve periodo questo traguardo e la soglia dell'88% di vaccinati non arriverebbe prima di due mesi. Mercoledì ci sarà una nuova fornitura, ne arriveranno 42.000, ma queste sembrano già essere insufficienti. Finora sono state circa 1.200.000 le dosi somministrate nelle quattro province, con il 35,07% dei residenti che hanno ricevuto la doppia dose o la dose unica. La fascia di età più coperta è quella degli over 80, mentre la più bassa è quella che riguarda gli under 19.